Un bel tapiro d'oro va ad arrivare nelle mani di Ambra Angiolini. Da parte di Valerio Staffelli astrisce la notizia per quale motivo vi starete chiedendo giustamente perché ci sarebbe una rottura tra Ambra e Massimiliano Allegri, personaggio di spicco del mondo calcistico arbitrato. Infatti diciamo che proprio Ambra si sarebbe trasferita nel capoluogo Lombardo per eccellenza a Milano per condividere un tetto con l'allenatore della Juve e avrebbe fatto di tutto per cercare di mettere da parte un'eventuale delusione ed un eventuale dolore per salvare quindi la relativa relazione, ma non ci sarebbe riuscita. E Staffelli, il buon Valerio Staffelli raggiunge Ambra Angiolini per consegnare questo bel tapiro d'oro e nonostante tutto Ambra accetta di buon grado il tapiro d'oro. Appare infatti abbastanza tranquilla, abbastanza rasserenata, abbastanza ripeto serena, però non si entra nel diciamo così particolare anche perché rimane tutto abbastanza leggero da discutere. Va bene? Detto ciò vi ringrazio per l'ascolto, vediamoci il video stasera o domani quando uscirà nel sito di stretchnotizza www.stretchnotizza.mediaset.it Iscrivetevi al canale Narratore Italiano e commentate. Un saluto e al prossimo video.